Visto che tanti parlano delle mie capacità da veggente, da ultraterrene, chiamatele come volete, che io riesco a realizzare attraverso la mia astrologia, che insegno e posso insegnare a tutti, vi faccio vedere un video del 2020, cosa dicevo, su quello che sta succedendo ora sulla politica americana. Questo era il 2020. Ho deciso di semplificare un argomento molto vasto, di cui ne stiamo parlando veramente in maniera molto disordinata, un po' da tutte le parti, è quello che riguarda le elezioni americane. Io ho sintetizzato tutto, ma proprio tutto, in un disegnino per bambini, che può capire anche un bambino, ma però in questo disegnino c'è tutto, quello che è successo, quello che sta succedendo e quello che succede. Ecco a voi, il disegnino è questo. Vedete? Chi lo capisce, o è un genio, o è un mistico, o è un bambino. Qua. Data del caricamento del video, possiamo vedere 2020. Grazie. 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 Grazie.